Tog e Rosa, ne hanno parlato con passione proprio loro, gli avvocati donna di Verona, perché a fronte di un aumento veloce e consistente delle professioniste iscritte all'albo forense e ad una crescita ancora maggiore delle praticanti che hanno superato addirittura i colleghi maschi, non c'è un equivalente riconoscimento, non solo a livello retributivo, ma anche negli incarichi di responsabilità. Siamo ormai arrivati quasi a un 50% di colleghi avvocati che svolgono questa professione, ma da una ricerca effettuata dal Consiglio Nazionale Forense e da una ricerca che abbiamo fatto a Verona un paio di anni fa, ci siamo accorti che a fronte di un maggior numero di colleghe e di donne che si avvicinano a questa professione non corrisponde né una valorizzazione del ruolo delle colleghe, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale ed economico. Molte colleghe fanno parte di tantissime associazioni forense, l'associazione dei giuslavoristi, dell'AIAF, del diritto di famiglia, dei concorsualisti, molte colleghe fanno parte di queste associazioni e di questi organismi, ma quando si tratta poi di essere rappresentate all'interno delle istituzioni e soprattutto all'interno del Consiglio dell'Ordine, la rappresentanza femminile è fortemente bassa. È fortemente bassa a Verona, la percentuale delle colleghe che fanno parte del Consiglio dell'Ordine con il numero di rappresentanti sono 15, sono soltanto 3. In percentuale siamo ai penultimi posti dei Consigli dell'Ordine del Veneto, a fronte ad esempio di rappresentanza femminile molto più adeguata nella vicina Vicenza dove la rappresentanza femminile è al 49%. Non è una stagione facile per nessuno, non lo è tanto meno per la professione forense, ma le donne avvocato vogliono dare il loro contributo. Abbiamo vari scopi, quella di promuovere la figura femminile all'interno delle istituzioni forense, sostenendo e candidando nostre rappresentanze femminili all'interno dei Consigli dell'Ordine. Si tratta tutto sommato di un principio di equità e di democrazia sociale, soprattutto in un momento di crisi come questo, dove anche la figura dell'avvocato è in crisi e quindi noi crediamo che la presenza delle avvocate donna possa portare certamente equità e democrazia all'interno delle nostre istituzioni.